Consapevolezza, condivisione e cura, rafforzare l'informazione per colmare il divario nella cura della talassemia. E' questo il tema scelto per l'edizione 2023 della giornata mondiale contro la talassemia per sottolineare che nelle diverse parti del mondo esistono ancora profonde differenze in tema di prevenzione, diagnosi e cura di una patologia che storicamente registra nella provincia di Ferrara un numero elevato di portatori sani. Due genitori portatori sani di talassemia hanno infatti il 25% di probabilità ad ogni gravidanza di trasmettere al figlio l'errore genetico che gli impedirà la normale produzione di emoglobina e renderà necessaria la terapia trasfusionale per tutta la vita. L'Italia conta più di 3 milioni di soggetti portatori sani di talassemia e oltre 7 mila malati della forma più grave di questa patologia. Il numero di nuovi nati con questa anemia ereditaria si è drasticamente ridotto grazie ai programmi di screening prenatale attivi sin dagli anni 70. L'evoluzione e la prognosi della malattia dipendono fortemente dalla disponibilità di sangue e della qualità delle cure. A Ferrara il tema della talassemia è stato affrontato in maniera pionieristica già a partire dagli anni 50 con la creazione di un centro dedicato alla cura di questa patologia e oggi il Day Hospital della talassemia e delle emoglobinopatia dell'ospedale di Cona eroga cure ad alta complessità ad oltre 300 pazienti di tutte le età provenienti da tutta l'Emilia-Romagna in qualità di centro AB della rete AB & SPOC regionale ma anche a pazienti che arrivano in consulenza da altre regioni facendosi carico dei percorsi di diagnosi, terapia e follow-up della patologia. Sono circa un migliaio etalassemici in Emilia-Romagna e circa 360 sono seguiti proprio dal DHTE dell'azienda ospedaliera universitaria. Quello di Ferrara è uno dei centri che ha più contribuito al progresso scientifico e clinico della talassemia sia a livello nazionale che internazionale grazie anche al contributo dell'Associazione e lotta alla talassemia Rinovullo di Ferrara nata nel 1974 e che ancora oggi è costantemente impegnata al fianco dei pazienti e delle loro famiglie.